Radio Radicale Ci occupiamo di uno dei casi scientifici più importanti della seconda metà dello scorso secolo quello di Manuel Velikovsky che pubblicò nel 1950, credo, Mondi in collisione questo libro che sovvertiva molte delle teorie scientifiche che erano state elaborate fino a quel momento provocò un grosso scontro nel mondo accademico negli Stati Uniti e in tutto il mondo questo libro è pressoché sconosciuto all'editoria italiana l'hanno pubblicato due case editrici, credo la Mondatori negli anni 50 la Garzanti negli anni 50 e poi un'altra case editrice qualche anno fa Ah, sì, sì, voi? Non me lo ricordavo e noi vogliamo parlare di un altro libro molto importante che è un po' il seguito di questo Mondi in collisione che si tratta di Albert Einstein e i Mondi in collisione scritto da Manuel Velikovsky che aveva un altro titolo in inglese che poi è spiegato nel libro, poi se vuole lo ricorderanno noi ne parliamo con Luigi Cozzi che ha curato questo libro per Profondo Rosso allora, com'è nata l'idea di pubblicare questo libro che racconta anche la genesi di Mondi in collisione numero 2? ma per il semplice motivo che io ho pubblicato Mondi in collisione praticamente questo libro è introvabile in Italia perché è stato pubblicato da Garzanti nel 1953 e poi è uscito di catalogo ed era difficilissimo da trovarsi e poi mi è capitata una copia in inglese, l'ho letta, mi ha affascinato ma soprattutto mi ha colpito il fatto che diceva un mucchio di cose che mi parevano assolutamente sensate e che molte delle quali poi sono state dimostrate dalle scoperte successive perché il 1950 era un mondo completamente diverso da quello di oggi anche per la scienza, la scienza era molto più avetrata rispetto a oggi e a quel punto ho pensato bene per la verità era una trilogia quella di Velikovsky c'era mondo in collisione poi c'era il segreto delle civiltà perdute che era la prima parte della prima stesura di Mondi in collisione che precedeva l'inizio di Mondi in collisione e che l'editore americano aveva fatto togliere a Velikovsky per non fare il libro troppo lungo io l'ho recuperata e l'ho pubblicata appunto anche quella e poi ho pubblicato il compendio scientifico di Mondi in collisione che l'ho intitolato Mondi in collisione 2 che vale a dire che era un secondo libro che portava la documentazione scientifica a dimostrazione delle sue teorie esemplificate in Mondi in collisione e a quel punto io sapevo che esisteva anche questo carteggio tra Einstein e Velikovsky perché i due erano amici erano stati amici ai tempi della Berlino nazista praticamente erano tutti e due ebrei sì sì assolutamente erano tutti e due ebrei e Velikovsky aveva avuto l'incarico di curare la grande enciclopedia diciamo scientifica per conto della società ebrea e aveva chiamato Einstein tra i tre collaboratori e quindi si erano conosciuti e poi si sono ritrovati entrambi in America perché tutte e due poi sono fuggiti negli Stati Uniti e si sono incontrati nella stessa università a Princeton e è rinata diciamo l'amicizia a quel punto Velikovsky si era già all'inizio degli anni 50 aveva già pubblicato il suo Mondi in collisione che aveva suscitato scandalo diciamo nell'ambiente scientifico dell'epoca nell'ambiente universitario accademico e quindi il suo riavvicinamento a Einstein è stato dapprima preso da Einstein con le molle perché Einstein non avendo letto il libro pensava che fosse una cosa eretica come dicevano all'epoca e poi invece i due frequentandosi hanno cominciato a discutere delle cose di cui Velikovsky accennava in questo libro Einstein se l'era fatto dare e aveva trovato tutt'altro che eretico insomma si era trovato d'accordo su molti punti ed erano nate delle discussioni tra di loro scientifiche o per lettera o per di persona di cui sono rimane poi Velikovsky ha fatto un riassunto che è stato pubblicato appunto adesso in questo libro che io ho trovato interessantissimo anche perché dava uno spaccato della vita di Einstein della vita privata diciamo di Einstein e noi lo conosciamo come un vate della scienza e basta e invece in questo libro c'è Einstein come persona come persona umana con le sue debolezze con i suoi grandi ardovi insomma l'ho trovato affascinante come descrizione ecco la cosa quali erano le tesi di Velikovsky che in qualche modo avevano messo in discussione le convinzioni del mondo accademico e scientifico fino allora che ci fossero delle come diciamo dei influssi elettromagnetici che avevano determinato il movimento dei pianeti che avevano provocato diciamo il distacco di una parte del pianeta Giove che poi si era battuto sulla Terra probabilmente su Marte e poi aveva dato vita a Venere dunque questo è un riassunto un po' diciamo approssimativo della teoria di Velikovsky quello che ha suscitato scandalo e quelli che si sono scagliati di più contro Velikovsky sono stati gli astronomi perché Velikovsky aveva fatto semplicemente questo lavoro si era alla grande biblioteca di New York aveva preso in esame tutti i libri storici più antichi che esistessero di tutte le popolazioni del mondo e aveva fatto un raffronto cercando di datare all'incirca i vari racconti fantastici che c'erano in questi libri e aveva scoperto che per esempio si parlava dell'arretramento del Mar Rosso nella leggenda di Mosè e contemporaneamente c'era un libro cinese antichissimo che parlava di quando il mare si era ritirato in maniera enorme anche nella Cina e lui praticamente è arrivato a stabilire tutta una serie di fenomeni che ritenuti leggendari e invece si erano sicuramente verificati perché avevano riscontro in Sud America in Cina in altre parti del mondo e anche in Europa e nell'Arabia e ha cominciato a pensare a che cosa poteva aver provocato questo ora un fenomeno locale può avere un tipo di spiegazione ma lo stesso tipo di fenomeno che si verifica praticamente su tutto un pianeta le forze che lo provocano non possono essere che extraterrestri e lui è arrivato alla conclusione che tutta una serie di fenomeni tra cui appunto anche l'aprirsi e ritirarsi del Mar Rosso rientrava nel passaggio di un grosso corpo celeste vicino alla Terra che aveva provocato tutta una serie di fenomeni Mar Rosso Macina l'Europa il sorgere delle montagne per esempio tutto uno studio di questo genere e infatti la reazione più scandalosa fu degli astronomi i quali in quell'epoca escludevano in maniera assoluta che potessero non solo passare vicino ma cadeva addirittura sulla Terra corpi celesti ammettevano al massimo qualche piccola meteora ma niente di più ecco per quanto riguarda Velikovsky noi dobbiamo dire che lui era un fisico aveva una formazione da fisico piuttosto era uno storico aveva un altro tipo di formazione questo era accettato dagli scienziati dell'epoca? no lui non era accettato proprio per questo perché era aveva mi pare tre lauree ma erano tutte lauree letterarie diciamo era mi pare che fosse filosofo una cosa di questo genere però lui si era mosso come partendo dalla ricerca in questo modo cioè indipendentemente dalle sue teorie dalle teorie scientifiche di quel campo lui si era mosso dalla logica ripeto se un fenomeno viene constatato in tutto il mondo in tutti i paesi del mondo l'unica ragione che lo spiega può essere di origine extraterrestre ecco Einstein con quale intrattenne questo carteggio che lei ha ben documentato con un lavoro che immagino sia stato anche abbastanza sia stato abbastanza faticoso ricostruirlo io non la invidio certo per il lavoro che ha fatto alla fine a che tipo di convinzioni arrivò noi abbiamo visto che Einstein riuscì ad incontrare Velikovsky anche in condizioni di salute molto molto difficili allora a che tipo di convinzione era arrivato diciamo Einstein aveva dato ragione in che in che percentuale a Velikovsky se possiamo utilizzare questo termine ma il il nuovo dialogo era iniziato all'inizio con un rifiuto netto da parte di Einstein delle idee che aveva espresso Velikovsky e poi piano piano aveva cominciato a trovare interessanti certi punti certi discorsi ed era cresciuto il suo interesse nella fase in cui si è ammalato lui stava praticamente aveva ripreso da poco in mano il libro di Velikovsky e si stava appuntando tutte le sue osservazioni però aveva cambiato idea sul conto del libro cioè lo riteneva un libro importante che andava assolutamente discusso e soprattutto approfondito lei ha fatto una valutazione sul comportamento del mondo editoriale negli Stati Uniti e del mondo scientifico noi che cosa possiamo dire oggi dell'atteggiamento del mondo scientifico e del rifiuto nei confronti di Velikovsky la prima casa editrice che pubblicò Monti in collisione poi non volle più avere la paternità di questo libro che passò a un'altra casa editrice mi sembra la Double Day se non sbaglio allora che valutazione possiamo fare oggi su questo il mondo diciamo scientifico accademico è rimasto su quei livelli di chiusura in qualche modo di autoprotezione assolutamente così se no non ci sarebbero i baroni no praticamente il mondo accademico i baroni diciamo i titolari delle cattedre eccetera non accetteranno mai una teoria diversa da quella che li ha portati a essere baroni per cui il progresso in questo campo sta avvenendo molto lentamente però dall'altra parte adesso è invalso un nuovo uso cioè praticamente ogni settore porta le sue novità scientifiche isolandolo dal contesto vale a dire hanno se gli esperti in meteorologia sono arrivati a dimostrare che nell'Antartide circa intorno al 4000 avanti Cristo aveva una temperatura temperata quindi assolutamente diversa da quella di oggi non la riportano però in confronti della storia o della pre-storia della voce umana loro dicono quello solo nel loro settore per cui non si scontrano più con gli esperti dell'archeologia e così gli esperti dell'archeologia isolano quei archeologi di nuova generazione perché per esempio qui si continua a dire che in America sono arrivati i primi uomini attraverso la Siberia ma in America non dicono più così dicono che già intorno al 15.000 avanti Cristo c'erano gli americani gli originali americani e non sono venuti quindi attraverso la Siberia però in Europa non si insegna questo tipo di storia cioè ciascuno difende l'isola del suo potere diciamo quella la sapienza che lui ha dispensato e l'ha portato a quel posto di potere la difende a tutti i costi è un po' come quello che è successo a Genova col ponte dove c'è questa società che si lamenta perché gli hanno fatto perdere dei soldi in borsa ci sono 42 42 morti però invece pongono davanti a tutto il denaro certo un'ultima questione la citazione della Genesi allora Velikovsky aveva dato a questo suo libro che lei ha curato Albert Einstein e i mondi in collisione un altro titolo prima che il giorno sorga prima che il sole sorga che era un passo della Genesi che cosa si diceva in questo passo della Genesi e in che circostanze Velikovsky lo ha ricordato ad Einstein e come reagì Einstein sicuramente non me lo ricordo questo dovevi leggere il libro perché l'ho fatto qualche anno fa quindi non me lo ricordo però voglio dire che Velikovsky eretico non è più considerato tale negli Stati Uniti cioè dopo una serie di anni in cui è stato proprio messo all'indice bandito è stato eliminato dall'università da cui lavorava nuove generazioni di studiosi di ricercatori hanno cominciato a trovare conferme a molte delle teorie avanzate da Velikovsky e soprattutto le maggiori conferme sono venute dalle sonde spaziali le sonde spaziali hanno costruito un'immagine astronomica che si avvicina di più alle teorie di Velikovsky che a quelle degli astronomi che in quell'epoca l'avevano attaccato per esempio è di qualche anno fa che la NASA ha dimostrato che Giove non ha sempre occupato quella posizione nel sistema solare loro non datano questo fatto dicono che sicuramente milioni di anni fa in questo modo si pongono al di fuori di ogni discussione con altri settori della scienza che potrebbero discutere questa cosa però la NASA l'ha dimostrato e infatti su Velikovsky è stato ripreso lo studio nelle università americane proprio a Princeton c'è un titolare di Catted da che ha ripreso le sue teorie e li hanno portati avanti molto avanti perché siccome Velikovsky poi rimase scottato da tutte queste polemiche che si scatenavano intorno a lui non volle più riprendere questo studio l'ha praticamente lasciato così e invece altri hanno ripreso il suo studio l'hanno portato di molto avanti hanno trovato molte conferme anche alcune smentite su alcune cose che lui aveva immaginato in un modo tipo quello di Venere uscita da Giove hanno trovato un'altra spiegazione e hanno trovato un mucchio di conferme io ho pubblicato anche questi libri che sono più recenti sono scientificamente accurati e molto più molto portano più avanti il discorso di Velikovsky con prove dimostrate dalla NASA bene io la ringrazio molto per averci un po' aiutato a capire Albert Einstein e i mondi in collisione il libro che lei ha curato per profondo rosso che è un volume che ci aiuta un po' a capire diciamo la deontologia del mondo scientifico e accademico come dovrebbe essere e non come si impone purtroppo in molte circostanze nella realtà dei fatti la ringrazio molto ringrazio Luigi Cozzi sono grazie a tutti